Si apre a mano a mano. Che cos'è il vuoto che via via si apre a mano a mano che ci spogliamo degli stati di coscienza di amore e non amore? Commento. È il vuoto della nostra mente che riesce sempre meno ad etichettare ciò che il nostro essere vive. Questo vuoto è uno scacco della mente che quando è ancora nel percorso evolutivo che detta io devo amare si sente talmente piccola dinanzi alla coscienza assoluta che decide di fare a meno di se stessa.